Arzignano. Sequestro preventivo di 21.400 euro da parte della Guardia di Finanza di Arzignano avvenuto nei giorni scorsi nei confronti del titolare di un'azienda ediale di Castelgomberto. Il Vicentino avrebbe per diversi anni emesso fatture false. Le indagini partite da un controllo fiscale nel 2018 avevano riscontrato delle irregolarità nei pagamenti a partire già dal 2012. Una fabbrica di fatture false. Le evidenze investigative acquisite nel corso degli accertamenti hanno portato il Tribunale di Vicenza, su richiesta della locale procura, ad emettere il sequestro in via diretta del profitto del reato.